Consigliere De Pascale, stamattina è un momento veramente importante per la risorsa mare ma soprattutto per la città di Napoli. Sì, per la città di Napoli e in particolare di Bagnoli che è del Circolo Ilva dove si svolge questo evento. Importante perché come sappiamo Bagnoli sarà nei prossimi mesi soggetta a un'attività di riqualificazione territoriale. Oggi è un incontro con le istituzioni perché c'è la presenza di Daniele Avillani, la delegata al mare, c'è la presenza dell'assessore alla regione e del vicepresidente della regione. Quindi un momento importante per chiedere e per sapere un poco gli sviluppi futuri, le istituzioni come vogliono porsi per Bagnoli. Grazie per la visione!